Ancora nessuna traccia dei ladri che nei giorni scorsi hanno preso di mira alcune case nel quartiere di Marcianesi a Lanciano. Gli agenti del commissariato tipo Lizia indagano sul raid che ha fruttato ai topi d'appartamento un cospicuo bottino tra monili in oro e qualche migliaio di euro, anche se l'inventario esatto dei preziosi trafugati deve essere ancora fatto. Nella prima irruzione in casa il proprietario era presente, ha sentito dei rumori provenienti dall'esterno, accorgendosi di quanto avvenuto solo quando però i ladri si stavano dando alla fuga. Nel secondo furto i proprietari di un'altra casa, rincasando dopo cena, trovano la camera da letto matrimoniale messa a soquadro. In questo caso sono stati rubati solo monili in oro. Le indagini si concentrano sulle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area, anche se molti punti sono ancora scoperti. L'amministrazione comunale ha emanato il bando per installare in città 40 telecamere nuove. Nel frattempo i ladri d'appartamento hanno compiuto raid anche in altre località periferiche di Lanciano, in passato a Liconicella, Redicoppe, Villa Stanazzo e Villa Andreoli, dove i cittadini hanno raccolto 800 firme per chiedere maggiore sicurezza.